Nel capitolo 3 abbiamo che le perdite sono una componente essenziale, quindi io spiego nel capitolo 3 perché le perdite sono una componente essenziale. Quando voi avrete capito questo concetto, sicuramente le perdite vi faranno meno paura di quanto ve ne fanno adesso. Quindi i trader di successo fanno solamente piccole perdite e tendono a mantenere le perdite a un valore basso. Quindi cominciare ogni giorno da capo, quindi se noi abbiamo fallito in passato dobbiamo renderci conto che nel trading possiamo iniziare ogni giorno da capo con un nuovo giorno e una nuova mentalità. Non bisogna pensare costantemente ai soldi o appunto a quanto si guadagna ma bisogna fare trading soprattutto per passione. Perché i soldi poi arriveranno in maniera spontanea dopo e non bisogna cambiare time frame soprattutto nel corso di un investimento. Molte volte il trader principiante ha bisogno di sapere un sacco di informazioni e quindi non si ferma.